Non sappiamo mai da dove spunta. Buonasera, frate, provo. Grazie, grazie a tutti. Allora, selezioniamo anche oggi volti per nuovi testimonial di spot che andranno in onda su questa rete. So che c'è una fanciulla in mezzo al pubblico. Se si vuole materializzare, dov'è? Eccola, facciamo un applauso a questa ragazza. Sì, vieni, vieni. Grazie, arrivo. Grazie, arrivo. Sì, senza ammazzarti, ecco, perfetto. Eccola qua, la vostra possibile testimonia. Vuole vedere qualcosa? Vuole vedere qualcosa di me, come mi muovo magari? Sì, no, non serve questa... Vabbè, niente, è diventata legnano vende moda all'improvviso. Ed eccola qua, sfila in passarella questa milf rimbalzata. Quattrocento volte su Tinder. Sfoggia un poliestere cinese che prende fuoco al primo caldo primaverile. Ammiratela in tutta la sua bellezza. Un quarto di Monica Bellucci. Tre quarti di Ello Spank. Grazie, grazie, grazie. Sì, sì, sì. Ecco, perfetto. Ha vinto, ha vinto la signora, ha vinto questo ghepardo della Caritas, cresciuto in cattività qua a Cantalupo, con i genitori di Cerro Maggiore. Allora, ciao, intanto presentiamoci. Ciao, come ti chiami? Le mani sudate, sono rimasta appiccicata. Chissà i piedi, eh, saranno due branzini in guazzetto. Vero? Vabbè, non direi che sono cose che non sono importanti al fine del provino. Invece tu come ti chiami? Che penneggio all'astra che ha lei, eh? Questi occhiali importanti, questa forma arrotondata. è un uomo o un minion, per capire. Sono lo zio di Homer Simpson, basta che non mi rompi i cognomi, va bene, ok. Allora, senti, eh, allora, il tuo nome? Sì, io sono Iva. Iva, di cognome? Di Maggio. Iva di Maggio, sì, 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 sì. Questa la togliamo perché faceva schifo. Allora, Iva, senti, vuoi raccontarmi qualcosa di te, della tua vita? Ma io sono un'appassionata di bondage. Ah, ah. Cioè, ti hai subito un dettaglio abbastanza piccante, va bene, sì. Non le piacerebbe essere legato come una mortadella? Eh? Beh, basta che mi lasci libero il pistacchio e poi... Si può fare tutto nella vita. Va bene. Va bene, sì. Niente, si è già fatto un LSD. Allora, veniamo al provino, parliamo di merendine, un prodotto nuovo. Sono le merendine del mulino blanco. Sì. Ti danno un'energia incredibile, spacchi due uole in 30 secondi. Ok. Va bene. Allora, immaginiamoci proprio la scena di queste merendine del mulino blanco. Tu sei a tavola con tutta la tua famiglia, ok? E dal mio via, improvvisi. Improvvisi facci, regalaci il sogno appunto di questa famiglia perfetta del mulino blanco. Prego, vai. Azione. Carlo! Scusi. Prego, prego. Vai, vai. Carlo, stai seduto. Rosa, non pulirti con la manica. Ma lei, dai, aiutami! Ti mando i servizi sociali subito, se no... Scusi, perché? Cioè, meno foga, eh? Ok, concentrati sulle merendine. Cioè, la tua famiglia è una famiglia modello, cioè, non ha... Forza, vai. Concentrati. Ehm... Sì. Dai, mangia le merendine, che siamo in ritardo! Dai, amore, basta con questa telefona! Forse serve più un esorcista, direi... Non so, mi... No, ma stai tranquilla. No, scusi, devo un po' uscire. Eh, ma sì, dai, voglio dire, cioè, certo, esci... Ecco, esci da te stessa, brava. Sì, più che altro è entrato qualcuno, più che... Vabbè. Mamma mia, che tensione! Io dimenticherei proprio... No, cioè, nel senso, continua a stare sul pezzo, sulle merendine. Forza, cioè, la tua famiglia è una famiglia modello, mangia le merendine ogni mattina, vai, coraggio! Ma, scusi, la donca è mio marito? Non ho capito. La donca è mio marito. Ma, mi sembra il caso, no? No, perché preferisco darla al mio vicino. Sì, mi rendo conto, però... No, la do. Però, dalla anche... La posso mangiare anch'io, scusi? Ma, certo, perché no, scusami... No, perché le mamme, di solito, sai, danno, danno, mangiano mai loro. No, ma è giusto che mangino anche le mamme, vai. Perfetto. Sì, complimenti per l'eleganza, benissimo. Sì, ecco così, cioè, la tipica mamma italiana. Ecco, brava. Fantastico, sei un misto fra cancaminin spazzacamin e un pupazzo alla merda. Complimenti. Benissimo, grazie. Una minatrice di Belfast, va bene, dai. Ecco, la mamma manda... Eh, cosa? Ma riesci a proseguire il pezzo o devi vomitare? Ok, vieni, forza, coraggio. Dai, alla signora che hai tirato il ghepardo. Rimaniamo così e andiamo al secondo pro... Compronto? Sì, va bene. Dai un... Hai un fazzoletto? Grazie. Dammi anche il maglione, va benissimo. Va bene. Ok, se dovesse servirti... No, per voi, mi dico... È andato giù. È andato giù, va bene. Lo lasciamo qua. Senti, parliamo del prossimo prodotto, invece... Sei concentrata? Dunque, è un... È un... È un lucidalabbra. Sì, sì, sì. Sì, sembri... Dai, dai. È un lucidalabbra, no, costruito da questa azienda farmaceutica per evitare i contagi di herpes e anche di feci di popotamo, direi, non lo so. Va bene. Quando tu sei pronta, io ti passo la pellicola, è questa pellicola che si chiama Fior di Labbra, ok, e tu, come dire, è un lancio assolutamente nuovo sul mercato, quindi con questa pellicola tu sei in grado di baciare chiunque senza provocare l'herpes. Bene. Quando vuoi, ti devo fare da... Ti devo aiutare? Questo è il problema, che ti devo aiutare. Sì. Benissimo. Bene. Per me sei presa... Per me sei presa senza andare avanti, ecco. Sei la testimonial giusta. Però servono anche... Bello. Sì, molto, sì. Servono anche dei testimonial maschili, se possono entrare, so che ci sono due candidati maschili. Sì, se voglio... Posso rinunciare alla pa... Posso rinunciare alla parte? La... Sì. Sì, posso rinunciare, dico. Sì, la prendo io, grazie. 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 Sì, la... A te è Cazunca! Che bravi!